ciao bambini ciao bambine oggi giochiamo con i semi oppure la farina se volete un pacchetto di semini questa è quinoa un cartoncino nero sul tavolo e poi guardate che magia sentite che bel rumore e che bella sensazione tra le mani che profumo adesso cosa possiamo fare possiamo allargare i semi con un dito possiamo lasciare tanti segni disegnare fare forme cancellare e ricominciare lasciare una mano e poi toglierla e scoprire che cosa rimane sopra cancellare e usare due dita oppure tutta la mano e poi cancellare e ricominciare pure possiamo prendere un animaletto come il coccodrillo voglio mangiarmi tutto questo chinoa buona anche il coccodrillo lascia i semi oppure cancelliamo e prendiamo una scavatrice se ce l'avete raccogliamo i semi scarichiamo i semi ricominciamo vedete bimbi mamma e papà tante cose si possono fare con cartoncino nero semi oppure farina gialla oppure miglio quello che volete ciao bimbi ciao bimbe ciao ciao ciao